Salve ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube, io sono Alessandro Passaro e dalle varicciati Fiorino, per chi non mi conoscesse. Oggi vi faccio un breve video per aggiornarvi un po' sulla situazione. Allora, prima di tutto iniziamo con questa femmina, questa coppia che ha questo piccolo bianco e che ha fatto il terzo uovo stamattina, ieri non l'ha fatto e quindi stamattina ho trovato il terzo uovo. Può capitare che la femmina non faccia l'uovo il giorno dopo, ma lo faccia il giorno successivo. Questa femmina gialla ha fatto il quarto uovo stamattina, credo sia l'ultimo perché è un po' più azzurro. Poi il maschio l'ho tolto col quarto uovo e l'ho messo stamattina, ora in pratica. con questa femmina, che ha fatto purtroppo stamattina il primo uovo, quindi speriamo che almeno gli altri due siano buoni, cioè li fecondi. Stamattina a questa coppia gli vado a mettere le loro uova, 5 uova, queste sono finte, ora io vado a mettere le sue, eccole qui. E qui non ho diciamo uova da mettere, quindi non so se lasciare ancora le uova e quindi mettere poi successivamente le uova della femmina bianca, che comunque farà un uovo domani, l'altro dopo domani, se tutto va normale. quindi non so, poi gliele rimango alle le sue uova e quindi poi si vedrà, vedrò un po' la situazione e vedrò cosa fare. qui sta sempre covando la signorina, e quindi nulla ragazzi, ora gli vado a dare la pappa.